Basta vittime delle truffe delle banche, salviamo i nostri risparmi ed è per questo che il Movimento 5 Stelle organizza per domenica, ore 10, piazza da San Jacopo, ad Arezzo, saremo tutti in piazza per manifestare e dare sostegno ai risparmiatori truffati dalle banche. Io sono Giacomo Giannarelli, uno dei cinque portavoce del Movimento 5 Stelle qua a Regione Toscana, sono anche Presidente della Commissione d'inchiesta sulla Monte dei Paschi, ci sono dei preoccupanti, delle preoccupanti similitudini con quanto sta accadendo con le altre banche, con Banche Truia, con quello che è successo con la banca Monte dei Paschi, il più grande scandalo bancario d'Europa, dove sono stati bruciati, emerge dalle audizioni, 100 miliardi di euro. Allora noi chiamiamo tutti i cittadini ad alzare la testa, alzare la voce e venire in piazza domenica, piazza San Jacopo, ore 10, tutti ad Arezzo.